Il Quantum 2 è un ondulatore di nuova concezione, i cui punti di forza sono gli alti standard qualitativi e la versatilità. Attraverso questo impianto si possono realizzare sia prodotti standard di cartone ondulato con onde classiche quali B, C e B eccetera, sia applicazioni speciali con profili onda molto piccoli, fino ad arrivare all'onda N, che ha un'altezza inferiore al millimetro e può entrare in competizione con il mercato dei prodotti in cartone solido, il cosiddetto cartoncino, ma con caratteristiche migliori. L'innovazione è nel processo di formazione del cartone ondulato, che avviene in una sola fase termica. Le carte vengono incollate fra di loro quasi contemporaneamente e mantenute in contatto fra di loro fino a maturazione dell'incollaggio. La combinazione di questi fattori garantisce principalmente vantaggi quali minor consumo di energia, maggior rigidità e resistenza meccanica del cartone, maggior planarità e infine ottima qualità estetica e stampabilità di superficie. La nostra stampante digitale, la HP C550, è stato il primo esemplare del suo genere ad essere stato installato in Italia. La tecnologia digitale rappresenta un'innovazione dirompente, sia dal punto di vista del fornitore che dal punto di vista del cliente. L'elaborazione dell'artwork e la stampa sono più veloci. Il processo di approvazione è rapido perché avviene attraverso lo scambio di file che sono standardizzati, che quindi garantiscono qualità e coerenza nel corso del tempo. Per quanto riguarda il vero e proprio lancio in produzione, questo è più immediato rispetto alle altre tecnologie di stampa e questo significa che si riduce notevolmente lo scarto e si ha una maggiore disponibilità della macchina. Il cliente che decide di acquistare la tecnologia digitale è un cliente che ha capito che attraverso essa può acquistare la quantità di prodotto necessario che ha garantita qualità e continuità del prodotto nel tempo, che può stampare diverse grafiche all'interno dello stesso lotto di produzione e infine che l'artwork o gli artwork alternativi che vorrà provare si baseranno su un prodotto finito e non sulla valutazione di un mock-up. Da qualche anno abbiamo avviato un progetto interno con l'obiettivo di certificare la conformità dei prodotti stampati alle specifiche del cliente, misurando i colori sulle linee di produzione. Per farlo ci siamo dotati delle più recenti tecnologie disponibili. Nel tempo lo abbiamo sviluppato fino a diventare un sistema di monitoraggio dell'intero workflow di stampa, dall'ufficio tecnico al reparto inchioste, dalla produzione di impianti stampa alle linee di stampa flexo, includendo anche il reparto di stampa digitale. La raccolta puntuale e rigorosa di tutti i dati di misurazione spettrale degli stampati ci permette di avere una fotografia in tempo reale dello stato delle linee, della conformità dei supporti, della curatizia degli inchiostri o della risposta degli impianti stampa. Analizzando queste informazioni possiamo intervenire tempestivamente e con cognizione di causa per individuare eventuali criticità e in senso lato per affinare il processo. Sappiamo bene che le scatole non sono più solo involucri, ma strumenti di comunicazione. Quindi una stampa corretta e uniforme, brand color, accurati e stabili, vanno assolutamente garantiti ai nostri clienti, così come l'osservanza degli standard qualitativi internazionali. Grazie a tutti.